Ogni tanto c'è qualche notizia da parte della Chiesa tedesca che è impegnata in un grande sinodo che certamente, grande innovatore sinodo, metterà fine finalmente alla serie incredibile, orrenda, schifosa degli abusi sessuali commessi dai preti e dai religiosi in generale oppure all'interno di istituzioni cattoliche. E la Germania in questa foga che ha per purificarsi e finalmente per svecchiare la dottrina della Chiesa pensa di poter essere un faro universale per la Chiesa, quindi anche per Roma. E pertanto che cosa bisogna fare, secondo gli esponenti della Chiesa tedesca, per evitare gli abusi? Per evitare gli abusi? Beh, chiaro, sacerdozio femminile, apertura alle coppie LGBT e AQ, apertura alle esigenze quindi della modernità. E beh, adesso la notizia è, di questo fine giugno, e questa notizia ha scioccato padre Betzing, che è il presidente della conferenza episcopale tedesca. Allora, adesso vi leggo la notizia che ha scioccato padre Betzing, che nel 2021, attenti, ben 359.338 persone hanno deciso di sbattezzarsi, si sono allontanati dalla Chiesa, non sono poche, quasi 360.000 persone. L'anno precedente erano state solo 273.000, cioè la Chiesa tedesca a ritmi consistenti sta scomparendo. E che cosa dice padre Betzing, chi è sconvolto? Dice che questi dati ci fanno capire che dobbiamo continuare con coraggio sulla strada che abbiamo intrapreso dell'ordinazione femminile, dell'apertura a coppie di qualsiasi tipo, con coraggio avanti. Il punto, lo dicevo anche nella pillola su Marx, il punto è che un cattolico tedesco paga per essere cattolico tedesco praticante, paga, lo Stato direttamente gli prende dai soldi dello stipendio. Una parte, una decima, credo che poi lo Stato devolverà alla Chiesa. Quindi la Chiesa tedesca, che è ricchissima, anno dopo anno si vede sottrarre tutta questa ingente massa di fondi, ma non c'è davvero peggior sordo di chi non vuole capire, e bisogna andare dritti sulla strada che abbiamo intrapreso. Viene da chiedersi però, se la strada di salvezza, perché che cosa fa la Chiesa? Porta la salvezza, porta la salvezza all'amore di Dio che ci salva, ci salva dalla morte. Il mondo, il mondo, scegliere il mondo, come ha fatto, scegliere Satana, come hanno fatto Adam e Eva, comporta la morte. Allora, certo che se io, per usufruire della vittoria sulla morte che mi dà Gesù, devo passare per le stesse parole d'ordine che mi dice il mondo, e cioè apertura a qualsiasi tipo di desiderio sessuale, tutto va bene, sacerdosio, tutto va bene. Se io, per essere salvata, devo essere uniformata uniformata a quello, alla dottrina che va di moda al mondo, ma me lo dite voi, a che mi serve a me far parte della Chiesa? È evidente, è evidente che tanti se ne vanno, se ne vanno. E questa Chiesa è una schiesa veramente cattivella.